Giorgio arriverà domenica, lunedì ci sarà una cerimonia presso la chiesa del Cristo Re, alle 11 ci sarà una camera ardente e poi alle 15 ci sarà proprio la cerimonia ufficiata da Don Vittorio Trani che è un po' il nostro padre spirituale. Sul campo quasi 40 anni fa sono stati capaci di vincere uno scudetto inimmaginabile. Oggi imbiancati ma indomabili come allora, i ragazzi del 74 hanno realizzato il sogno dei laziali di tutte le età. Il ricongiungimento eterno tra Giorgio Chinaglia, il bomber di quella Lazio leggendaria, e il suo allenatore papà, Tommaso Maestrelli. Da lunedì riposeranno insieme nella cappella di famiglia dell'allenatore Gentiluomo, scomparso prematuramente 37 anni fa. Long John Chinaglia invece è morto in America il 1 aprile 2012. In Italia non poteva rientrare per quella brutta storia legata all'oscuro tentativo di scalata alla Lazio del 2006. Ma i tifosi vogliono ricordarlo soltanto come l'eroe del tricolore, il condottiero di quella banda di ribelli divisi in clan che Maestrelli teneva miracolosamente insieme. Un'unione che dura tuttora. E infatti stamattina erano in tanti, da Capitano Wilson a Oddi, passando per Felice Pulici a presentare il programma del rientro della Salma di Giorgione, reso possibile dall'impegno delle famiglie Chinaglia e Maestrelli. Anche loro hanno realizzato lo stesso sogno, romantico e malinconico, dei tifosi laziali, per sempre riconoscenti alle più importanti figure simboliche dei 113 anni di storia bianco-celeste. Di questo è convinto uno dei migliori eredi della maglia numero 9 di Chinaglia, Bruno Giordano. Il ritorno di Giorgio sarà qualcosa di straordinario proprio per tutto il popolo bianco-celeste, che Giorgio crede sia la persona che ha lasciato il segno più profondo nella storia della Lazio.